ben ritrovati per una nuova puntata del ciclo di catechesi ad amo nella vita nella piena volontà mi scuso per questa pausa un po forzata durante il tempo di natale ma è stato un po difficile trovare i tempi e momenti opportuni soprattutto perché i martedì e mercoledì capitato il natale il santo stefano più il primo e il 2 di gennaio era un po complicato ecco risintonizzarsi comunque adesso riprendiamo speditamente il nostro itinerario per crescere nella conoscenza e nell'amore alla divina volontà e alla vita nella divina volontà continuando a contemplare e a comprendere in tutti quanti i suoi risvolti quella grande storia d'amore scritta da dio con il nostro progenitore e interrotta strafalcionata insomma in tanti aspetti e poi ora pazientemente e accuratamente ritessuta da gesù e quindi anche con la possibilità di chiunque desiderio di vivere una vita pienamente felice in braccio al signore ecco di poterla completamente ritessere bene siamo all'interno cominciamo oggi a vedere un pochino di brani tratti dalla venticinquesimo volume vediamo se riusciamo a vederne i preamboli ma cominciare subito la lettura del primo di essi che del 25 dicembre del 1928 quindi siamo in pieno giorno di natale di quel tempo siamo ancora nel tempo di natale e vedremo alcuni passaggi molto molto belli molto era il primo sole umano investito dal nostro volere ripeto volume 25 25 dicembre 1928 per chi volesse seguire la lettura del testo i suoi atti erano più che raggi di sole che allungandosi e allargandosi dovevano investire tutta l'umana famiglia i luci dovevano vedere tanti in uno come palpitanti in questi raggi tutti accentrati nel centro di questo primo sole umano e tutti dovevano avere virtù di formare il loro sole senza uscire dal vincolo del primo sole perché avendo principio da questo sole la vita di ciascuno ognuno poteva essere sole per se stesso come fu bella la creazione dell'uomo o come supera tutto l'universo intero il vincolo di unione di uno in tanti era il più doveva mantenere l'inseparabilità di tutti la vita comunicativa ed unitiva di tutti simbolo immagine della nostra divinità che siamo inseparabili e sebbene siamo tre divine persone siamo sempre uno perché una è la volontà una è la santità una è la potenza nostra perciò l'uomo viene guardato da noi sempre come se fosse uno solo adonta che doveva avere la sua generazione lunghissima ma sempre accentrata nell'uno era l'amore increato che da noi veniva creato nell'uomo e perciò doveva dare di noi e rassomigliare a noi e la nostra volontà unica gente in noi doveva agire unica nell'uomo per formare l'unità di tutti e il vincolo inseparabile di ciascuno perciò l'uomo con sottrarsi al nostro fiat divino si deformò e disordinò e non sentì più la forza dell'unità e dell'inseparabilità né col suo creatore né con tutte le generazioni si sentì come un corpo diviso spezzato nelle sue membra che non possiede più tutta la forza del suo corpo intero ecco perché la mia divina volontà vuole entrare di nuovo come atto primo della creatura per riunire le membra spezzate e darle l'unità e l'inseparabilità come uscita le nostre mani creatrici noi ci troviamo nella condizione di un artefice che ha fatto la sua bella statua da fa stupire cielo e terra l'artefice ama tanto questa statua che ha messo la sua vita dentro di essa sicché ad ogni atto movimento che essa fa l'artefice sente in sé la vita l'atto il movimento della sua bella statua l'artefice lama con amore di delirio non sa distaccare il suo sguardo da essa ma intanto amore la statua riceve uno scontro urta e resta spezzata nelle membra e nella parte vitale che la teneva vincolata e unita all'artefice quale non sarà il suo dolore che cosa non farà costui per rifare la sua bella statua molto più che lui l'ama ancora e all'amore delirante si è aggiunto l'amore dolorante tale si trova la divinità al riguardo dell'uomo è per il nostro delirio di amore e di dolore che vogliamo rifare la bella stato dell'uomo e siccome l'urto successe nella parte vitale della nostra volontà che lui possedeva e stabilita essa in lui la bella stato ci sarà rifatta e il nostro amore resterà pagato perciò non voglio altro da te che la mia divina volontà abbia la sua vita poi ha soggiunto con un accento più tenero figlia mia nelle cose create la divinità non creava l'amore ma le fioriture della sua luce della sua potenza della sua bellezza eccetera sicché si può dire che nel creare il cielo le stelle il sole il vento il mare la terra erano le opere nostre quelle che mettevano fuori quelle che mettevamo fuori e le fioriture delle nostre belle qualità solo per l'uomo ci fu questo prodigio grandissimo di creare la vita e la vita del nostro medesimo amore e perciò è detto che fu creato la nostra immagine e somiglianza e perciò l'amiamo tanto perché è vita e opera che è uscita da noi e la vita costa più di tutto questo è il primo ambrano della nostra attenzione presenta qualche passaggio forse a qualche ascoltatore o a qualche ascoltatore non particolarmente addentrato in questo linguaggio un po' tecnico un po' tipico di luisa qualche passaggio può sembrare un pochino ostico non vedremo quello è molto meno di quanto sembri per commentare un pochino questo brano in chiave catechetica bisogna innanzitutto prendere alcuni punti chiave il primo punto chiave è l'affermazione di nuovo forte netta e perentoria dell'amore di dio verso l'uomo e della peculiarità del tutto singolare che è all'uomo all'interno della creazione il quale ti direbbe niente di nuovo sotto il sole perché queste sono cose che si sanno dalla divina rivelazione la chiesa era sempre insegnata in lungo e in largo in tutte le forme in modi possibili però quello che tante volte io ho notato e ho anche condiviso cercavo di farlo notare in questi scritti tutto questo appare proprio vivo appare vivo e profondamente motivato l'amiamo tanto perché perché vita che ho la motivazione perché vita e opera che è uscita da noi e la vita costa più di tutto cioè quello che già i padri della chiesa commentando la creazione dicevano tipo un santo agostino cioè che nella creazione si trovano le vestigia di dio ma nell'uomo si trova l'immagine la somiglianza perché 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 all'uomo dio ha centrato tutto quanto il suo amore e lo ha fatto traboccare e gli aveva dato come vita come linfa vitale come qui si spiega la sua stessa volontà passo indietro questo questo è il primo grande e concetto no fondamentale l'amore di dio poi il principio dell'unità del genere umano che funziona sia a diritto che a rovescio cosa dice gesù nella prima parte no che adamo era il primo sole investito dal nostro volete attenzione in lui si dovevano vedere tanti in uno perché perché i suoi atti erano raggi che avrebbero dovuto investire tutta l'umana famiglia quindi significa che la vita di adamo se fosse andata poi lo vedremo se ci arriviamo che stasera è bellissimo in un brano molto breve ma molto importante che spiega la differenza tra atto permissivo e atto voluto della divina volontà concetto fondamentalissimo da tenere ben chiaro possiamo cominciare a dire che il peccato originale fu un atto permissivo della divina volontà non certamente un atto voluto cioè la storia dell'umanità non sta andando come dio avrebbe voluto è assolutamente parlando cioè di volontà io la chiamo intenzionale gesù parla di atto voluto della divina volontà noi stiamo assistendo ad una storia diversa da come dio l'avrebbe voluta certamente che poi dio scrive diritto su di che storte che dio poi ha realizzato la redenzione ha fatto il capolavoro della madonna dentro questa storia quindi i nostri strafaccioni non possono distruggere completamente il progetto di dio questo è evidente ma noi stiamo non c'è la la storia della razza umana è potuto essere un film meraviglioso quindi una commedia stupenda d'accordo ma qui purtroppo storia della razza umana si si proietta quasi incessantemente il film dell'orrore e dio non fa regie di film dell'orrore non scrive sceneggiature di film dell'orrore assolutamente queste le scriviamo noi d'accordo quindi quindi l'unità del genere umano cioè in adamo erano accentrati tutti i membri della razza umana come capostipite e quindi se adamo avesse conservato il dono della divina volontà e questa vita tutti ne avremmo benefici non soltanto conservandola ma anche godendo di riflesso delle sponde degli atti umani e dei benefici che ci avrebbero prodotto al contrario cioè che cos'è il peccato originale vedete che si distingue il peccato originale commesso e il peccato originale trasmesso oppure con termini tecnici il peccato originale originante e il peccato originale originato perché l'atto che ha fatto è un edamo attenzione non soltanto non è rimasto in lui ma ha rovinato la razza umana e si trasmette se uno apre il catechismo della chiesa cattolica vedrà cioè che quando uno viene concepito attenzione che il peccato originale inerisce alla persona come proprio cioè come se l'avesse commesso lui anche se non l'ha commesso lui capite si dicono alcune espressioni di peccato trasmesso ma non commesso ma il battesimo di un bambino domenica è la festa del battesimo del signore è importante ed urgente perché gli serve di dirmi che cosa toglie il battesimo non toglie le conseguenze del peccato originale ma toglie il peccato originale originato d'accordo che ripeto inerisce all'anima come se l'avesse commesso lui anche se non l'ha commesso lui e questo in base a cosa in base al principio di unità del genere umano che funziona ripeto sia al diritto che al rovescio tutti eravamo nei lombi se vogliamo dire così di adamo e capite infetta la radice infetto l'arbero infetto il capostipide infetti dipendenti florida la radice florido l'albero bella e fruttuosa la radice belle fruttuosa l'albero ecco il senso tutti quanti quei discorsi di quando gesù comincia a dire e ripeto con un linguaggio un pochino tecnico in lui si dovevano vedere tanti in uno tutti accentrati nel centro di questo primo solo umano tutti dovevano avere virtù di formare il loro sole senza uscire dal vincolo del primo sole quindi capite cioè ogni essere umano avrebbe formato il sole della sua vita personale nella divina volontà rimanendo però unito e vincolato a questo primo solo avendo principio da questo sole la vita di ciascuno sono cose molto importante la dottrina cattolica su questo cioè il discorso sul peccato originale proprio come dire assolutamente fondante cioè importantissimo quindi capire anche bene questo background perché molta gente si chiede ma la dottrina ma io che c'entro insomma non ho capito cioè che c'entro io l'ho fatto mica io sta cosa qui c'è il principio di unità del genere umano ho capito che non l'hai fatto tu ma ti ne disce come se fosse tuo ancora un altro concetto fondamentale l'uomo col sottrarsi al nostro fiat si deformò si disordinò attenzione non sentì più la forza dell'unità quindi tutti in uno e anche dell'inseparabilità inseparabilità da chi inseparabilità da dio e inseparabilità da tutti quanti i membri della razza umana quello che poi la virtù teologale della della carità tende a ripristinare cos'è è questo legame immenso con dio fatto nell'amore con tutto se stessi e l'amore con il prossimo con ogni prossimo allora l'uomo si sottrae al fiat divino e si deforma e si disordina e non sente più la forza dell'unità dell'inseparabilità né col suo creatore né con tutte le altre generazioni ecco la tragedia di adamo attenzione ai termini che gesù usa deformazione e disordine questi sono i due termini che caratterizzano la vita dell'inferno e la condizione dei dannati siano essi gli spiriti dannati siano esse le anime dannate gli spiriti dannati così come le anime dannate sono anzitutto esseri anche morfologicamente deformi sono mostri mostri e insomma lucifero che è più mostro di tutti che è diventato satana è brutto quanto la fa tanta li chiedi non so chi ti ricorda insomma no quando verso la fine dell'inferno vede il fondo dell'inferno stimbuto con questo mostro a tre teste seduto con le bocche che si mangiavano gli esseri umani tre teste appunto appunto come come scimmiottamento della santissima trinità perché è chiamato la grande scimmia il diavolo dante gli scappa questa espressione non me la ricordo in medico dice mamma mia quanto sei brutto se eri bello tanto quanto sei brutto eri proprio bello il problema è che questa deformità figlioli miei cari noi la vediamo in continuazione questa bruttura e la vediamo non soltanto lo vediamo in tante cose non solo la questa questa bruttura e disordine noi purtroppo no purtroppo grazie a dio veniamo comunque dal signore quindi siamo sensibili alla deformazione al disordine perché dentro di noi c'è come dire il principio della bellezza e dell'ordine non della deformità e del disordine quindi se vediamo qualcosa di disordinato di deforme noi stiamo male sia dentro che fuori di noi se vediamo qualcosa di bello e di ordinato noi stiamo bene sia dentro fuori di noi ci sono anche delle come dire delle spie empiriche chiamiamole così per questa cosa no comincia a diventare un pochino più ordinata anche esteriormente cioè come tiene la casa come viene la camera come tiene il posto di lavoro come tiene la propria persona è più contenta io non ho conosciuto pieno neanche una persona che non abbia sentito quel senso di maggior che questo sono stupidaggini magari insomma la vita ordinata consistesse soltanto nel mettere a posto 4 4 4 scartoffie dentro le nostre camere no è una cosa molto 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 più profonda ma questo che è un piccolo segno già da idea di come noi che siamo immagini e somiglianza di dio siamo stati pensati per rimanere in quest'ordine supremo e sappiamo come tante volte negli scritti la vita nella divina volontà giusto dice riordina tutto c'è un riordine generalizzato ci sono dei termini tecnici riordine l'equilibrio l'armonia ripenso per esempio alla meditazione di di fatta questa mattina l'armonia bellissimo termine no e ripenso anche alle cose sempre della meditazione di questa mattina a questo proposito il contrario della deformità la bellezza quando uno sta nella nella divina volontà da che cosa se ne può accorgere se le persone sono contente di stare a contatto con noi perché con una persona che campa nella divina volontà si sta bene perché una persona che ti fa stare bene perché piena di carità è piena di dolcezza è piena di pazienza è piena di bontà erano queste le quattro cose della meditazione di questa mattina e da dove vengono queste quattro cose vengono dalla fusione con gesù perché queste cose non ce le diamo da soli allora quanto è quanto era bella e quanto è bella la la presenza l'amicizia la vicinanza di gesù e di maria tanto no anche se noi non non la conosciamo per esperienza diretta non possiamo immaginarcela e così è evidentemente bella e gradevole la presenza la compagnia la vicinanza di chi è gesù e maria gli assomigliano nei tratti ora l'ultimo suggestione di questo primo scritto è questo termine insomma che un termine proprio da dargli forse il titolo a questa questa catechesi riparla della stato dell'uomo un'immagine molto frequentemente utilizzata negli scritti questa bella statua animata però no di cui dio si era innamorato rotta si è rotta spezzata nelle membra e nella parte vitale che era appunto la divina volontà e per essere rimessa a posto dato che dio l'ama ancora ancora il consiglio dell'amore di dio c'è voluto l'amore delirante l'amore delirante cioè dio va in delirio di amore per te delirio di amore è l'amore delirante e l'amore dolorante sotto questo punto di vista a mio avviso la scuola continua delle ore della passione è insostituibile perché quello è il libro come dire è proprio il libro della dichiarazione di amore estrema di gesù nei nostri confronti vedere come gesù si comporta e con quelle bestie cioè io veramente delle volte quando leggo la della passione io dico ma come si fa cioè come si fa essere così cattivi a infierire in crudelire in un modo così barbaro insomma verso un essere come era gesù indifeso che non reagiva che sorrideva come si fa essere cioè delle volte rimango e dico ma 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 come si fa eppure si fa questo è l'orrore il film dell'orrore appunto no scritto dalla volontà umana dico ma come fanno io non non il mio peggior nemico non gli userei violenza perché non so bon cioè non come faccio io a a usare violenza fisica a far uscire il sangue a un a un mio simile per me è una cosa che proprio non 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 si può eppure questo è purtroppo storia quotidiana in questo brutto mondo no quindi vedere al vivo gesù che vive questo e come reagisce è insomma una storia continua no tanta roba cioè io penso personalmente che non è mai abbastanza il nostro cercare per quanto possibile non soltanto di comprendere con la mente ma di comprendere di avere anche con il cuore il mistero dell'amore di gesù cioè gesù vuole che il suo amore sia conosciuto che tu ci creda che tu lo accolga e che tu lo ricambi perché tutto quello che è anche la vita nella divina volontà sostanzialmente non è altro che un riconoscere un accogliere profondamente tutto l'amore che gesù ha per te e ricambiarlo però per te e per tutti è questo questi termini no amore delirante amore dolorante ma solo sentirli fa come dire un effetto insomma non indifferente no per il nostro delirio di amore e di dolore che vogliamo rifare la nostra bella statua e che cosa bisogna fare bisogna semplicemente che l'urto deve essere riparato e la volontà divina perduta deve essere ristabilita e solo allora il nostro amore sarà pagato questo è un altro aspetto io ci torno spesso che noi dovremmo veramente tanto soffrire e piangere perché siamo dei proprio assassini cioè noi impediamo a dio di godere la bellezza della sua creazione e di avere il ricambio di amore mio tuo personale io so io se non glielo do io l'amore che io devo dare a gesù non glielo può dare nessuno e non vederlo per gesù a causa di sofferenze noi dobbiamo ringraziare ma dovremmo ringraziare fino al giudizio universale perché soltanto una della razza umana solo una ha dato a dio questa gioia e glielo era data per tutti che era madonna ringraziamo io ho fatto ogni tanto cioè noi dovremmo nella vita nella divina volontà per esempio anche quando noi facciamo qualcosa che non funziona e che dobbiamo essere sempre più disponibili lasciarci ammaestrare dalla grazia dallo spirito santo dalla voce della nostra coscienza che se ci impariamo bene ad ascoltarla ce ne dice dolcemente ma ce ne dice tante insomma di cose no ma il dolore più grande anche per una piccola imperfezione qual è? è che hai fatto dispiacere veramente cioè hai dato a gesù quel dolore di vedere tu che sei la sua bella statua perché la nostra cioè la nostra anima rimane comunque bellissima più brutta deformata io penso che soltanto in paradiso comprenderemo una cosa di questo genere però se uno si addentra un pochino nella cioè nella divina volontà cioè non è cioè tante cola a superbia perché uno si può anche addolorare del fatto che ha commesso un errore per superbia perché non accetta di essere limitato perché vorrebbe che tutti i ropello lo ritenessero perfetto perché lui stesso davanti ai suoi occhi vuole apparire perfetto questo non va bene ci sono difetti nel difetto ma in questo mondo della divina volontà quando ci succede qualcosa che non va a te ti dispiace cioè ti senti ti senti un verme ti senti come dire un criminale perché dici ma guarda che spettacolo sto a far vedere a Gesù ma fatto lui sono uscito da le mani sue potrei essere tanto bello e gli faccio vedere il suo mostro ecco questa è una cosa che che nasce no? bisogna bisogna entrarci un pochino dentro bisogna bisogna viverla no? da questo nasce un dolore differente ecco anche per le nostre miserie e per le nostre condizioni e credo che nasca anche un amore differente anche nei confronti di noi stessi perché ricordiamo che amerai il prossimo dopo come te stesso è la versione antica del secondo conandamento e per cui altra cosa è l'amor proprio che è disordine tornando a quello che ci siamo detti prima che è l'egoista quello che penso sempre proprio io quello che vuole che tutti vivano per lui che sta al centro del mondo insomma eccetera un incontro è chi ama santamente se stesso cioè si ama dello stesso amore con cui lo ama Dio si vede con gli stessi occhi con cui lo vede Dio questo dobbiamo non solo che possiamo dobbiamo farlo Gesù è contento che facciamo questo quindi un figlio della divina volontà per esempio cioè sta sempre in cammino di conversione continua perché poi mano a mano che passa il tempo cioè se tu lasci parlare Gesù Gesù ti porta veramente poi anche verso la perfezione nel senso che tu cominci a essere attento tutta una serie di cose che prima neanche ci facevi caso però questo chi è magari da tanto tempo che cerca di percorrere un cammino di conversione di santificazione lo coglie questo qui cioè che mentre quando uno faceva le proprie cadute anticamente più che dolore provava rabbia adesso invece in questo mondo si prova veramente sincero dolore ma un dolore però pacifico quel dolore che dice signore che vogliamo fare uno avre un pochino le braccia e dice vabbè la prossima volta cercheremo di andare un pochino meglio insomma dammi una mano insomma purtroppo qui siamo caduti un pochino in basso c'è questa percezione passo al secondo capitoletto se noi arriviamo alla fine stiamo ancora al primo questo è molto breve è sempre volume 25 stavolta primo gennaio del 1929 dice così figlia mia nella prima epoca della sua vita Adamo peccando fece una ferita all'anima sua dove uscì la mia divina volontà ed entrarono in cambio le tenebre le miserie le debolezze che formarono il tarlo a tutti i beni dell'uomo sicché se ha beni senza la mia divina volontà attenzione seppure ne ha sono beni darlati infraciditi senza sostanza e quindi senza forza e senza valore ed io che lo amo tanto nei primi giorni della mia vita attenzione ancora ed io che lo amo tanto attenzione nei primi giorni affinché affinché questa mia ferita risanasse la ferita dell'umano a volontà e gli infondesse di nuovo il mio fiat il quale gli avrebbe tolto il tarlo le miserie le debolezze le tenebre e in virtù del mio fiat onnipotente tutti i suoi beni sarebbero stati rifatti e ripristinati vedete no qui la chiesa di nuovo il paragrafetto è già finito la chiesa insegna che la natura umana dopo il peccato originale ha una grande ferita ferita che sempre sanguina ferita che in questo mondo a meno che non arrivi la divina volontà non si rimargina mai perfettamente e da questa ferita avete visto se io mi faccio una ferita esce il sangue è il sangue che esce io l'ho perduto quindi se se una ferita è uscito il sangue il sangue è uscito è perduto e che cosa entrano da una ferita aperta dentro l'organismo entrano i batteri allora che cosa è questa grande ferita benissimo è la fuoriuscita proprio così della divina volontà da noi non c'è più è uscita e l'ingresso in noi di cosa quattro parole usa Gesù tenebre tenebre opposto a luce miseria miseria opposto a ricchezze debolezze debolezze posta a forza che formarono il tarlo di tutti i beni dell'uomo queste tre cose il tarlo quindi che significa che tutto quello che tu puoi avere tutto quello che tu puoi possedere tutto quello che puoi desiderare tanto è tarlato cioè questa è una condizione si dice con un linguaggio tecnico nuovo un po' filosofico è una condizione adesso ontologica dell'uomo cioè che significa ontologica significa che caratterizza il suo essere così come è adesso quindi tu puoi stare sicurissimo cioè che ogni essere umano che tu vedi se non vive nella divina volontà poi c'è tutti i soldi che vuole poi c'è tutte le soddisfazioni quello che te pare i beni sono tarlati sono infraciditi senza sostanze non lo appagano non lo rendono felice punto ci sono questi tarli che facciamo esperienza tutti i giorni le tenebre l'uomo molte volte oggi molte volte quasi sempre non sa da dove viene non sa dove va non sa orizzontarsi tra il vero e il falso tra il bene e il male non sa che fa capisce niente pieno di miserie in continuazione eppure gli uomini sono pieni di miserie che non si vogliono riconoscere come miserabili pieno di debolezze provate a vedere no? specialmente nelle opere buone no? quanto durano i propositi di un essere umano anche che voglia sinceramente risolversi per il bene quanto durano? chi è che è fedele fino in fondo a un proposito che è tenace che è capace di portare in fondo bene ci vuole molto ecco per cui qui bisogna allora qui Gesù dice attenzione questa grande ferita io per ripararla nella sua radice ha otto giorni di vita mi sono fatto fare il taglio della circoncisione sapete che la circoncisione è è stata prescritta ad Abramo ed era secondo Sant'Ommaso d'Aquino l'equivalente ovviamente non sacramentale si capisca bene questo discorso mi raccomando di quello che per noi è il battesimo tu con la circoncisione entrerai a far parte del popolo di Israele domanda oggi questa circoncisione noi la consideriamo come un gesto abbastanza barbaro è un fatto di cronaca che una quindicina di giorni fa avete sentito i telegiornali insomma dentro una casa di qualche orientale non mi ricordo insomma che era si è morto ragazzino per una circoncisione fatta male non so un gesto abbastanza abbastanza sul barbaro andante oggi lo consideriamo eppure nell'Antico Testamento questo gli ebrei non è che se lo sono inventati l'avevo ordinato Gesù stesso lo ha subito domanda ma perché la circoncisione perché fare un'incisione a un maschietto proprio lì punto interrogativo qualcuno se l'ha chiesto ci avrà qualcosa a che fare col peccato originale io faccio domande in forma dubitativa qualche risposta l'ho data in qualche catechesi un po' tutto interrogativo e com'è che per ripristinare la divina volontà nell'anima cioè per cicatrizzare questa ferita Gesù dice anche io ho dovuto fare la ferita della circoncisione lì lui Dio non fa mai cose senza senso non è che dice ho niente da fare come facciamo a fare entrare gli uomini nel popolo di Israele e facciamo sta cosa così Dio non fa mai facciamo sta cosa così noi non capiamo molte cose che lui fa benissimo ed è normale che così sia ma certamente non fa le cose fatte a bambera per cui questa cosa deve significare per forza qualcosa io una mia idea ce l'ho è una mia personale idea la mia personale idea è che questo gesto confermi una certa lettura di quello che è stato il peccato originale ho fatto tante catechesi insomma in merito e a mio avviso questa è una degli indizi indizi chiaramente che conferma quella possibile lettura che ripeto come dissi quando ho fatto queste catechesi materia assolutamente libera perché su questo la chiesa non si è mai pronunciata e non credo che mai si si pronuncerà perché non è di per sé elemento che cambia la sostanza della dottrina dell'insegnamento sul peccato originale non che quello di Santa Madre Chiesa sul sacramento del matrimonio e sul fatto per esempio che l'unico uso l'esito della sessualità questo è sempre un discorso che taglia tutti i problemi capite cioè l'ha detto anche recentemente non mi ricordo quale cardinale due o tre mesi fa bisogna al fatto capire una cosa quello che insegna la chiesa cattolica in forza di Gesù Cristo e di quello che gli ha insegnato è una cosa molto semplice che l'unica forma lecita di sessualità praticabile dagli esseri umani la si trova dentro il sacramento del matrimonio tra un uomo e una donna con quegli atti che sono di per sé adatti a trasmettere la vita fine fuori fuori di questo qua tu devi pensare che è come se questa cosa non esistesse quindi sono risolti tutti quanti i problemi tutti si possono fare non si possono fare la chiesa sia si apro non si apro basta dire questo tu ci puoi tranquillamente non credere d'accordo perché la fede non può essere imposta a nessuno ma apri il catechismo della chiesa cattolica il problema è perché ci ha voluto un sacramento per rendere lecito l'atto sessuale e perché l'unico atto sessuale lecito è quello a queste domande da risposta ragionevole una certa lettura del peccato originale e qui comunque indubbiamente qui Gesù va in una certa direzione la grande ferita dell'umana volontà che ha espulso la divina volontà e ha fatto entrare i germi delle tenebre delle misere delle debolezze che rendono tarlati tutti i beni dell'essere umano io l'ho risanata attraverso il taglio della circoncisione ma guarda bene ultimo sempre brevissimo paragrafetto per oggi sempre dal volume 25 17 febbraio del 1929 e questo è molto importante vabbè sono importanti tutti quanti figlia mia tu devi sapere che nella mia divina volontà attenzione c'è l'atto permissivo e l'atto voluto nella caduta di Adamo attenzione ci fu l'atto permissivo ma non voluto da essa essa con la E maiuscola cioè della divina volontà e nell'atto permissivo attenzione la luce il calore e la molteplicità dei colori della mia divina volontà si mettono da parte e restano intangibili senza mischiarsi nell'atto umano invece nell'atto voluto della divina volontà formano un solo atto e una sola cosa poi Gesù spiega resta macchiata la luce del sole perché passa sulle immondezze cioè se il sole illumina un centro di rifiuti il sole si sporca illuminando un centro di rifiuti no giusto resta macchiata la luce del sole perché passa sulle immondezze riprendono lettura certo che no la luce resta sempre luce e le immondezze restano immondezze anzi la luce trionfa di tutto e resta intangibile di tutto e da tutto sia che la calpestino sia che investa le cose più sporche perché nella sua vita di luce non entrano cose strane hanno luce più che solo la mia divina volontà essa come luce scorre in tutti gli atti umani attenzione ma resta intangibile da tutti i mali delle creature e solo entra in essa cioè nella divina volontà chi vuole essere luce calore e colori tutto il resto non le appartiene cioè solo entra in essa chi vuole vivere solo e sempre della mia divina volontà perciò vuoi star sicuro che tu non entrasti nella caduta di Adamo perché non fu la sua caduta un atto di luce ma di tenebre nella quale una funge l'altra allora questa distinzione e poi concludiamo il nostro incontro di oggi è fondamentalissima la distinzione tra l'atto permissivo e l'atto voluto della divina volontà e Gesù dice chiaramente nella caduta di Adamo ci fu l'atto permissivo non voluto il che significa che tutti i mali presenti nel mondo nessuno escluso nessuno sono tutti opera nostra e come dire riferibili a Dio solo sotto la subspecie di volontà divina permissiva perché rimane vero che non si muove la foglia che Dio non voglia però un conto è un atto voluto da Dio come tale un conto è un atto permesso da Dio altra cosa allora dice Gesù che la divina volontà è luce calore e molteplicità dei colori ecco perché il sole è la cosa che la caratterizza meglio luce la luce come sappiamo che con la luce si vede quindi chi vive nella divina volontà cominciamo subito che c'ha evidentemente ha una luce quindi una sapienza un'intelligenza un discernimento una prudenza le famose virtù intellettuali la sapienza l'intelligenza la prudenza la scienza superiore alla media il calore quando è che noi sentiamo il calore il calore simboleggia l'amore no una persona che non ama si dice che è fredda una persona che ama si dice che è calda il sole ha sia la luce che il calore e poi abbiamo i colori la molteplicità dei colori pensiamo alla differenza che c'era un film in bianco e nero un film a colori pensiamo a quanto è bello vedere i colori un giro nella nella creazione è bellissimo e cosa sono fuori di metafora i colori della divina volontà la pluriformità delle virtù faccio un piccolo esempio noi sappiamo che se mettiamo un prisma e lo puntiamo verso il sole così come verso la lampadina che sta accessa in camera nostra che copia alcuni aspetti della luce del sole perché noi copiamo tutto gli aerei copiano gli uccelli eccetera che vediamo se puntiamo un prisma contro il sole vediamo sette colori che sono i sette colori dell'iride questo spettacolo e questi sette colori che simboleggia numero 7 le tre virtù cardinali e le quattro virtù le tre virtù teologali e le quattro virtù cardinali dentro le quattro virtù cardinali che sapete che si dicono cardinali non i cardinali di santa romana chiesa quindi cardinali perché sono appunto i cardini sopra i cardini ci sta la porta quindi dentro ciascuno di questi cardini ci sono poi tutte le virtù morali quindi chi vive nel sole della divina volontà è luce è calore e è colori dobbiamo ricordare questo trinomio luce calore e colori posso fare un po' di pubblicità ai miei cari amici The Sun c'è una bellissima canzone loro hanno scelto il nome no? The Sun guardate che cioè io sono sicuro che quando hanno scelto questo nome i The Sun non conoscevano la divina volontà da quello che so perché me l'hanno detto alcuni di loro sono affascinati cominciano a entrare un pochettino adesso però in questo mondo sono rimasto sorpreso perché hanno scelto come nome The Sun cioè il sole e hanno scritto un sacco di canzoni dove fanno riferimento alla luce alla luce siamo luce dice il testo di una di una canzone siamo luce siamo luce cuore aperto per esempio che è una delle ultime canzoni grazie per tutta la luce grazie per tutta la luce diciamo grazie per tutta la luce la luce è un'immagine stupendissima è veramente perdonatemi il superlativo assoluto di ciò che non si deve dire insomma perché stupendo non è soggetto a superlativa assoluta però ma Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre dice la Sacra Scrittura no? Gesù ha detto io sono la luce del mondo quindi non c'è niente insomma di di più divino della luce e le persone che vivono in stretto contatto con la Divina Volontà diventano necessariamente persone solari persone che la luce che hanno nel cuore la sprigionano la la si vede cioè in tutto e per tutto in ogni cosa che fanno in ogni tratto in ogni in ogni caratteristica delle loro persone ecco questo è molto molto bello questo è è davvero un bel programma di vita quindi quando non abbiamo la volontà permissiva che succede? la volontà permissiva è completamente separata dagli atti umani non cioè rimangono due due mondi distinti nell'atto permissivo dice Gesù la luce il calore e la molteplicità dei colori della mia Divina Volontà si mettono da parte e non si mischiano con l'atto umano ma se tu entri nella Divina Volontà e cominci a fare in tutto quello che è l'atto voluto della Divina Volontà tu diventi luce tu diventi calore tu diventi colore e questo è veramente un altro mondo ecco perché cioè la vita nella Divina Volontà questo si chiama Adamo e la vita nella Divina Volontà come dire è un è un vortice è un cammino è un percorso dove veramente giorno dopo giorno si mettono a dei tasselli ulteriori cioè mano mano che uno matura tante cose veramente la volontà propria la si proprio detesta ma non è che la si detesta la si detesta perché la facoltà della volontà è una facoltà bellissima quella che ci rende simile a Dio ma la sua somma nobilitazione è adeguarla ininterrottamente sempre dovunque e comunque a quella Divina perché così tutte quanta la vita il fascio di luce di calore di colori che la volontà divina diventa tua e non c'è mi avviso nessuno più del diretto interessato perché ne fa esperienza che di questa cosa ne prende coscienza ora anche nelle più piccole cose questo bisogna anche questo qua bisogna viverlo quando una persona sta in questo mondo come dire cerca di mortificare la propria volontà ma non è diverso da prima non è più un atto ascetico d'accordo che uno dice ah tu mortificai la mia volontà ah io vorrei fare tanto sta cosa e mo faccio il contrario e tu senti che sta cosa te pesa che sta sbraitata se potessi fare come dico io però lasciamo perdere facciamo un'altra cosa non è così cioè la cosa che si fa è la stessa nel senso che tu rinunci alla tua volontà e cerchi di fare quella cosa ma anche nelle cose più stupide anche nelle cose proprio più sciocche della vita quotidiana quando tu vuoi fare la volontà di un altro sei più contento oppure lasciarti come dire portare un po' anche durante la giornata quello che dispone la volontà di Dio anche quando ti stravolge tutti i programmi tutti i progetti della mattina alla sera benissimo la più bella giornata che possa capitare o sperimentare cosa significhi per esempio farsi attenti nella misura in cui uno si distacca da tante cose e acquisisci un po' di spirito di interiorità alla voce del Signore all'ispirazione a Dio che ti parla nella coscienza lo fa in continuazione sono gli uomini che non l'ascoltano che non l'ascoltano perché non se ne fanno attenti ma Dio parla a tutti chiunque sente questa catechesi indiretta o indifferita deve sapere che Dio nel cuore ti parla in continuazione a te sei tu che non sei capace di sentirlo che non ti metti in condizione di sentirlo ma lui parla lo stesso quindi queste cose bisogna come diceva Santa Teresa cominciare a viverle per farne esperienze perché questo è un mondo veramente divino e la percezione di trovarsi in un orizzonte divino viene a chi comincia semplicemente a metterci il naso dentro a muoverci i primi passi avverte che c'è qualche cosa di differente di diverso di grande di bello di veramente appunto divino va bene carissimi ci salutiamo ci diamo appuntamento alla prossima puntata che speriamo non debba tardare così tanto perché è anzitutto per me un grandissimo piacere poter leggere e commentare ad alta voce questi scritti di cielo a te Maria e alla prossima puntata con la mia benedizione a presto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti